Ora è arrivato il momento di chiamare sul palco l'ideatore, nonché il direttore artistico della Notte della Tamorra, per tutti voi amici della Notte della Tamorra, Carlo Faiello! Buonasera, stasera pochissime parole, anzi una sola parola, grazie! Giovanni Mauriello! Matteo Mauriello! Marianita Cárforo! E' la donna, e' la donna, e' la donna, e' la donna! E' la donna, e' la donna, e' la donna! E' la donna, 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 e' la donna! E' solo il dono E' solo sua E' solo la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.